Si sono aperte oggi, martedì 4 gennaio, le iscrizioni online rivolte agli studenti per l'anno scolastico 2022-2023. A partire da questa mattina alle ore 8, gli interessati potranno inoltrare la domanda di iscrizione per tutte le classi prime della scuola primaria, secondarie di primo e di secondo grado statale, con il limite massimo previsto alle 20 del prossimo 28 gennaio. Per potersi iscrivere sarà necessario avere un'identità digitale. Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID, la carta di identità elettronica o un sistema di riconoscimento EIDAS. Il Ministero dell'Istruzione ha messo a disposizione inoltre per conoscere le singole scuole e la loro offerta formativa il portale Scuola in Chiaro per dare informazioni specifiche su ciascun istituto. Per iscriversi basta accedere con l'identità digitale al sito www.istruzione.it slash iscrizioni online, cliccando su Aggiungi nuova domanda e compilando il modulo diviso in tre sezioni con i dati richiesti dell'alunno, della famiglia e della scuola. Si dà inoltre la possibilità di scegliere fino a due scuole oltre la prima come seconde scelte, nel caso questa non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Una volta inviata la domanda sarà possibile monitorare lo stato della richiesta tramite gli indirizzi mail indicati.